Assessore Cefaratti, ieri una presentazione del Job Day qui alla sede Assindustria di Termoli, oggi il confronto tra le aziende e i lavoratori, la regione è presente per monitorare? Ma veramente siamo organizzatori insieme a Sviluppo Lavoro Italia di questa iniziativa che nasce sulla crisi Vibac, siamo molto soddisfatti perché mi pare che l'iniziativa abbia colto nel segno, anche i lavoratori pare che siano molto soddisfatti, cerchiamo di far confrontare l'offerta con la domanda, è chiaro che è una prima iniziativa che probabilmente nel futuro andrebbe anche limata rispetto a qualche aspetto e che non deve riguardare unicamente i lavoratori in crisi o le aziende in crisi, speriamo davvero di poter essere utili a questo territorio organizzando iniziative che riguardano i nitti, i giovani, le donne, che in qualche maniera hanno necessità di avere un confronto col mondo del lavoro e trovare delle soluzioni che siano loro idonee. Un ringraziamento particolare va a Sviluppo Lavoro Italia che è una società partecipata del Ministero del Lavoro che ci ha affiancato in questa iniziativa e siamo contenti davvero che questa prima iniziativa in Molise sia stata in qualche maniera davvero utile anche a noi a testare quelle che sono le potenzialità del territorio. È un livello di integrazione e interazione che può anche sopperire a quelle che sono le carenze strutturali dei centri per l'impiego? Assolutamente sì perché quando si parla di politiche attive del lavoro sembra che le politiche attive si debbano fare e si possano fare solamente ai centri per l'impiego o alle agenzie regionale di Molise di lavoro. Noi stiamo sul territorio con questa iniziativa, cerchiamo di confrontarci con il territorio, con le realtà del territorio, con i lavoratori del territorio, per cui queste iniziative credo che facciano molto bene sia per i lavoratori sia per le aziende che sono comunque sempre alla ricerca di lavoratori che siano già pronti al mercato del lavoro. Quest'iniziativa peraltro si affianca al percorso 5 di Goal che stiamo attivando in questi giorni per i lavoratori della Vibac che stanno vivendo una crisi produttiva in questo momento che è stata in parte superata attraverso delle misure e attraverso ulteriori misure che verranno messe in campo. Noi siamo contenti di aver generato questo prodotto, certamente dovremo monitorare cosa succede a valle di queste iniziative. Ed è un modo per far sentire la presenza delle istituzioni più vicine al bacino occupazionale che soffre. Esattamente, noi siamo stati vicini al bacino occupazionale nel momento della crisi, l'abbiamo accompagnato con riunioni continue insieme alla parte sindacale. adesso è il momento di fare uno sforzo in più rispetto a quello che è uno sforzo istituzionale e cercare le soluzioni per i lavoratori.